Pijamasks, un coraggioso terzetto di eroi. Gattoboy e il Pogodoser. Boom boom bada boom! Ehi, ma cosa sta combinando Romeo? Con un guantone meccanico di sua invenzione sferra colpi poderosi contro il muro del museo. E sai perché? Per rubare una nuova meravigliosa tuta, il jetpack, che permette di volare. Volando attaccherò il mondo con il mio spruzzapuzza, dice Romeo. Per fortuna però, un coraggioso terzetto di eroi è già pronto ad entrare in azione. Amaya diventa Gufetta, Connor diventa Gattoboy, Greg diventa Gekko, i Pijamasks. Ed eccoli alle prese con Romeo. Mentre Gufetta lo distrae volandogli davanti agli occhi, Gattoboy blocca il meccanismo che muove i guantoni. Poi Gekko, con i suoi muscoli da super Gekko, ne stacca uno e si ritrova a saltare qua e là senza sosta. È difficile, ma con la super presa rettile lui riesce a tenersi forte. Per tutti i camaleonti, questo guantone si può usare come un pogo, dice. È un pogo doser. Gufetta intanto, in piedi sul laboratorio di Romeo, non si accorta che il suo mantello è rimasto incastrato. Così, quando Romeo parte, lei non può volare via. Gekko sta per saltare sul pogo doser per andare ad aiutarla, ma Gattoboy è più veloce. Io salto come un gatto, dice, quindi sono più bravo di te. E invece non è affatto così. Mentre Romeo si allontana con gufetta, Gattoboy salta a più non posso senza riuscire a guidare il pogo doser. Salta ovunque, fino a sfondare del tutto il muro del museo. Gattoboy cade, ma non molla. Vuole provarci ancora. A questo punto Gekko ha un'idea. Se non può usare il pogo doser, userai il jetpack. È proprio lì, a portata di mano. Ma usarlo non è affatto facile. Avrei dovuto lasciargli usare il mio pogo doser, pensa Gattoboy. Attento Gekko! Il jetpack velocissimo sfreccia nell'aria come una saetta e Gekko non sa proprio come governarlo. Per fortuna, gufetta è riuscita a liberarsi da sola e vola in suo aiuto spinta dalle sue ali da super gufetta. Quando lei riesce ad afferrare Gekko, lui sgancia il jetpack che vola e atterra da solo, di fronte alla faccia stupita di Romeo. Era proprio quello che lui voleva e ora felicissimo è lui a volare con il jetpack, dimostrando di saperlo usare molto bene. Ma ancora una volta i super pigiamini non si danno per vinti. Gattoboy e Gekko salgono insieme sul pogo doser e come due acrobati inseguono Romeo saltando da un tetto all'altro. Romeo, guarda cosa sa fare Gekko. Come? Adesso siete capaci di usarlo? Ridatemi il pogo doser è mio, sbraita Romeo. Mentre Romeo rincorre e discute con i pigiamasks, gufetta si lancia in volo verso di lui, lo raggiunge e gli slaccia il jetpack. Romeo precipita tra le braccia forzute di Gekko. Lei intanto riporta il jetpack al suo posto nel museo. A Romeo ora non resta che usare il pogo doser. Attento però, dice Gattoboy che ne sa qualcosa. È difficile da usare se non sei una lucertola molto dotata. Evviva, Romeo è stato sconfitto. Il jetpack è tornato al suo posto e Gattoboy super veloce come sempre ha già riparato il muro del museo. È il momento di esultare. Super pigiamini fate festa? Sarà una bella giornata anche questa! Fine